A me piace tantissimo leggere e da molto tempo ero un pochino fermo perché stavo portando avanti numerosi progetti. Li sapete, ve li ho presentati qui sul canale. In realtà a breve mi devo andare a tuffare negli ultimi progetti rimasti e vedere come si riesca a interlacciare il tutto. Ma visto che in questi giorni mi sono un attimino rilassato, contro i giorni di ferie, mi sono messo giù a buttare alcune idee, ho alcune letture poco pesanti che possono avere invece un enorme impatto formativo sulle nostre finanze. Ma te ne parlo solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io risparmio, sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a 0 in 18 mesi. Oggi video leggero e discorsivo su cosa potremmo leggere quest'estate tra un bagno a mare, un ghiacciolo alla menta e una litigata con la nostra fidanzata o moglie. Perché diciamoci la verità queste tre cose accadono più o meno a tutti. Letture formative che lasciano molto in termini di maturazione finanziaria ma che allo stesso tempo sono letture semplici, leggere e veloci da finire. Per cui tuffiamoci in acqua ma dopo esserci tuffati fra le pagine dei libri. Il primo libro è pensionato a 50 anni, scritto da nostro Carlo Lorenzo B. di investire in borsa a caccia di dividendi. È possibile raggiungere la libertà finanziaria a 50 anni conducendo una vita normale? Questo è il presupposto di partenza di questo romanzo finanziario come lo definisce Lorenzo. Un romanzo che va a seguire le vite di tre amici con nomi fittizi, ma uno dei quali potrebbe essere il nostro caro amico youtuber Lorenzo, potessi essere io o potessi essere tu, che attraverso le esperienze di vita cerca di dare, di darsi una formazione finanziaria. Consigli molto attuali dati in seconda persona e che cercano di dare al lettore, che è quasi un compagno di viaggio, delle diritte su come muoversi nel tortuoso mondo dell'indipendenza finanziaria. Un modo per trovare uno spiraglio di luce a chi la luce non la vede al di fuori del tunnel. Libro scorrevole e corto che si legge con piacere. Lo volevo portare sul canale come recensione da un po', ma non ancora non sono riuscito. Porterò un video dedicato a questo libro. È un libro buono, mi piace tantissimo e ci sono anche delle molte recensioni positive su Amazon che lo vanno a confermare e in realtà infatti non capisco quelle negative. Fortunatamente sono poche. Il libro fa quello per il quale Lorenzo lo ha scritto, formale, attraverso un romanzo, una storia e ci riesce benissimo. Per sapere se il protagonista ce la fa nel suo intento vi consiglio di comprarlo. Sicuramente come dicevo prima andrò a fare una video recensione dedicata. Prima di passare agli altri quattro libri vi ricordo che settimana scorsa è uscito invece il mio di libro. Da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, la mia personale esperienza fra i debiti, come sono uscito e come ho cominciato a mettere da parte i soldi ad investire con tutte le tecniche che ho utilizzato io personalmente per farcela. Se volete considerate questo libro come il sesto di questo video. Mi raccomando per chi si trova in difficoltà per voi potrebbe essere un manuale per uscire fuori dal pantano delle finanze mal gestite. Secondo libro La fabbrica delle scelte di Richard Shotton. Tutte le scelte che prendiamo sono condizionate da meccanismi che regolano il funzionamento del nostro cervello. Per questo le scienze comportamentali sono tanto preziose perché si occupa di marketing, vendita e pubblicità e quelle scelte deve influenzare. Ma per quanto da anni ormai si parli di questi concetti sono ancora pochi quelli che li applicano in pratica. La fabbrica delle scelte offre un punto di risolvazione privilegiato su quello che accade nella nostra mente. Partendo dagli spunti offerti dalle decisioni che ci troviamo a prendere in qualunque giornata tipo, una scelta che può essere dal pranzo ad importanti mosse strategiche della carriera, questo libro evidenzia 25 bias comportamentali che sono significativi, dedicando a ognuno di essi un capitolo che ne mette in luce le implicazioni e le ricadute pratiche che possono essere sfruttate come leve preziosissime nelle strategie di marketing e advertising. Coniugando un tono leggero, spiritoso indiricolativo e una solida base scientifica, Richard Schotton mette a disposizione un patrimonio di conoscenze pratiche che possono tradursi in un solido vantaggio competitivo per chiunque voglia sfruttarle appieno. Ma questo serve anche a noi poveri mortali perché viene messa nelle nostre mani un'arma, quella di analizzare come le aziende vogliono venderci ghiaccioli anche se ci troviamo a vivere al Polo Nord e come evitare di farci pregare. Un metodo molto utile per chi voglia evitare di spendere soldi in maniera inutile per poi piangere dei nostri conti correnti che sono stati prosciugati. Libro consigliatomi da Alessandro Tazzoni del canale Leggere i dati che ringrazio moltissimo per questo consiglio perché ha aggiunto un tassello alla mia formazione personale. Non si smette mai di imparare. Grazie mille Alessandro. Prima di passare all'altro libro, al terzo, volevo dirvi che anche un altro youtuber e collega e amico ha scritto un libro di cui tra l'altro ho fatto anche una video recensione. Si tratta di Massimo Cirignotta del canale Mr. Billions dal titolo Ecco perché dovesti arduolarti. Libro anche questo per l'estate che non è solo indicato a chi vuole arduolarsi ma a chi anche voglia prendere la vostra vita in mano e trasformarla completamente. Per guardare la video recensione totale vi lascio la scheda qui da qualche parte. Terzo libro La psicologia dei soldi di Morgan Housel. Libro per il quale anche per questo ho fatto già una video recensione precedente che vi lascerò qui da qualche parte nelle schede. Libro che ho trovato interessantissimo, tanto da leggerlo in un paio di viaggi in treno. Ti prende, ti trascina veramente giù e ti forma tantissimo. Saperci fare con i soldi non dipende soltanto dalle informazioni a nostra disposizione ma anche e soprattutto da come ci comportiamo e il comportamento difficile da insegnare anche alle persone più intelligenti. Spesso pensiamo al denaro, agli investimenti, alla finanza personale, alle decisioni d'affari come una questione matematica. Un campo di studi in cui i dati e le formule ci dicono esattamente cosa dobbiamo fare. Nel mondo reale però non prendiamo decisioni in materia economica consultando un foglio di calcolo. Le prendiamo la sera cena o in una sala riunioni dove si mescolano la nostra storia personale e la visione del proprio mondo di ciascuno, incluso l'ego, l'orgoglio, il marketing e i motivi che sono in più imprevedibili. In questo libro Morgan Housel condivide 19 brevi narrazioni sugli strani modi in cui pensiamo ai soldi, aiutandoci a comprendere meglio uno degli argomenti più importanti della vita e spiegando nel contempo come risparmiare, investire e far fruttare i nostri risparmi. Quarto libro Libertà finanziaria di Dave Ramsey, titolo che rispetto all'originale non ci dice niente, non c'entra niente. Il titolo originale in realtà è The Total Money Makeover che potrebbe più o meno significare il rifacimento totale del tuo denaro, roba simile. Una serie di consigli su come gestire il denaro. Ramsey mette sapentemente idee su come gestire i soldi partendo dalle esperienze finanziarie reali dei suoi clienti o conoscenti. Il libro presenta un programma pratico creato studiando milioni di persone con le quali l'autore ha interagito sia in radio, tv, attraverso il web, libri, lezioni, newsletter, podcast e conferenze. Il metodo che viene spiegato da Ramsey è semplice e colmo di principi di buon senso. L'intuizione dell'autore è stata quella di far comprendere ai lettori che per trasformare la percezione che abbiamo del denaro dobbiamo agire su noi stessi e cambiare il nostro stile di vita. Quando le persone cominciano a recepire e fare proprio questi principi rifiudiscono finanziariamente azzerando i debiti e iniziando a investire a una velocità incredibile. A volte è scontato in alcune delle sue affermazioni ma nella scontatezza delle idee, anzi nella loro non applicazione, è dove si può trovare la soluzione per le nostre finanze che vengono troppo spesso complicate da delle situazioni create da noi stessi che sono solo deleterie per tutti noi. Ultimo libro 50 cose che hanno fatto l'economia moderna di Tim Alford, io ciò in inglese perché lo comprai in Irlanda. Libro quasi al manacco delle curiosità ma che ci porta a fondo nel contesto dell'evoluzione economica portata avanti attraverso le cose che utilizziamo tutti i giorni e delle quali si può dare spunto sia come il tutto ci sia evoluto attraverso invenzioni che oggi ci risultano per esempio ovvie. Le invenzioni non sono solo semplici soluzioni, sono molto di più, modellano la nostra vita in tanti modi diversi e imprevedibili. A volte mentre risolvono un problema a qualcuno ne creano un altro a qualcun altro. Il libro punta ai riflettori su affascinanti aspetti del nostro sistema economico concentrandosi su 50 particolari invenzioni e raccontando cosa succede quando le mettiamo sul fuoco per esaminarle nei particolari e osservarle da lontano scoprendo collegamenti impensati. E lungo il cammino troveremo risposte ai quesiti in attesa ad esempio qual è il collegamento fra Elton John e la promessa di un ufficio senza carta. Alcune invenzioni sono di una semplicità disarmante, altre col tempo sono diventate estremamente sofisticate e intramontabili per esempio come il cemento. Altre ancora sono stati intangibili, alcune come l'iPhone per dirne una sono assurdamente remunerative, alcune altre come il motore a diesel inizialmente sono state fallimentari sotto il profilo commerciale ma oggi come possiamo tutti non lo è. Ma ognuna ha una storia che ci fa scoprire qualcosa di nuovo sul funzionamento di questo nostro mondo e ci è venuto a vedere i miracoli quotidiani che ci circondano spesso ad opera degli oggetti più insignificanti. Fammi sapere nella sezione commenti qui sotto cosa ne pensi di queste letture, mi farebbe molto piacere avere un feedback della parte tua, li avevi già letti tutti, qualcuno li conoscevi, qualcuno non li conoscevi, le hai in watch list, ti lascio tutti i link tra l'altro qui sotto. Se il contenuto è stato il tuo gradimento ti chiedo per cortesia di farmelo capire con un bel pollicione in su, lo fai per me ma anche per l'algoritmo di YouTube per farmi crescere su questa piattaforma. Ti ricordo che puoi anche sostenermi al costo di un caffè al giorno sia qui su YouTube che su Patreon per contenuti dedicati. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo per favore iscriviti e clicca la campanella delle notifiche così che tu non possa rischiare di perderti nessun video pubblicato successivamente. Bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!